Salve, sono Rocco Colombo, dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Littegiano Pomponioleto. Una scuola con ben sei licei. Liceo artistico, liceo linguistico, liceo scientifico, liceo delle scienze applicate, liceo delle scienze umane, liceo economico-sociale. Una scuola viva e moderna, dove si dà spazio alla creatività, all'ingegno, allo studio, agli stagi all'estero, all'alternanza scuola-lavoro, all'arte, allo sport. Una scuola giovane che guarda all'Europa. Il nostro motto è un percorso per ognuno, un traguardo per tutti. E attenziamo!